Ho visto un po' di telegiornali sportivi, insomma importanti, prima ho pubblicato Studio Sport, ho visto Sky, insomma tutti che indirettamente poi mi danno ragione, il nome mio non lo fanno, non so perché, però comunque pure il servizio di prima, venata comicità la querela di De Santis, finito eh, dice De Santis querela Erfaina, le marcature nella Roma stanno saltando, Friatkin che richiama Totti, insomma ragazzi, è tanto lontano, me sa che non c'è sonno! Voglio dire, detto questo, regà io da ieri sera che ci penso, cioè io me so dormito, ho detto ma come a cazzo fa un direttore sportivo, di una delle squadre più importanti d'Europa regà, non d'Italia, perché la Roma è una delle squadre più importanti d'Europa, a quelle là Damiano Erfaina, allora so due cose, o so davvero un portante, o c'è a cazzo a cui pensare questo? Comunque voglio fare una battuta, su Damiano, diciamo che Damiano Erfaina, se mi intende di fantacalcio, quanto, diciamo, era forte De Santis importa, ti voglio bene Damiano! Oh, così siamo in due a piacerela! Comunque c'hai completamente ragione, ma te sei dimenticato una cosa, che non so io quello forte, ma so i miei follower, quindi, campana!